Ciao a tutti, si parte per questo weekend, andiamo ad Alia, Villa Daphne e poi ad Alia, un piccolo comune della provincia di Palermo fa parte delle Madonie, è nominata anche città giardino, quindi pronti a partire, un bello sta operando tutte le ultime cose, ha sistemato il frigorifero, niente, si parte, andiamo? Andiamo, 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 vamos, vamos, eccoci arrivati, abbiamo appena parcheggiato, insieme a tutti gli altri campi, qui siamo a Villa Daphne, andiamo, andiamo, questa Villa Daphne, un bel lago di turismo, qui dove si fa la ricotta, ricotta fresca fresca, bene fatto, bene fatto, andiamo a sal di colta, La mangiare è così, grazie. Dopo una bella mangiata di ricotta, facciamo un giro un po'. Iniziamo le Madolini, il territorio delle Madolini. Facciamo un giallo. Bella porzione di riso. Per finire un bel cannolo. Andate, ragazzi. Ragazzi, state già vedendo. Guardate la valletta. Troviamo la ragiotta della gru. La 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 gru. Grazie a tutti. 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 Partenza, prossima destinazione. Andiamo a trovare un posto per mangiare. Direzione Roca-Paloomba. Siamo arrivando al centro commerciale. Qui ci fermiamo per la fornace. Qui ci fermiamo per la fornace. Qui ci fermiamo per la fornace. Eccoci qua. Allora, la fornace. Allora, la fornace. Allora, la fornace, la fornace, la fornace. Abbiamo appena, la fornace, la fornace. Abbiamo appena finito di fare acqua. Abbiamo appena finito di fare acqua. Nel camper, ora ci dirigiamo al parcheggio. Allora, la fornace, la fornace. Allora, la fornace. Allora, la fornace, la fornace. Allora, la fornace. e così siamo appena arrivati siamo parcheggiati e si conclude questo weekend alla visita della Villa Daphne e alle grotte della Golfa niente, al prossimo weekend